L'amministrazione sommate diventano anche un problema per la finanza pubblica. Nonostante l'intensificazione dei controlli, resta alto nel nostro paese il numero delle truffe ai danni dell'Inps, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Fra falsi braccianti agricoli, persone che continuano a ritirare le pensioni del parente deceduto, cittadini che continuano a soffrire dell'indennità di accompagnamento, anche se sono ricoverati in una struttura di lungo degenza a carico dello Stato, e falsi disoccupati, sembra proprio che gli illeciti non diminuiscano tutti i raggiri che provocano ingenti perdite di fondi pubblici. Fra i fenomeni più diffusi c'è proprio la falsa disoccupazione. Sono tanti, infatti, gli individui che percepiscono assegni dall'Istituto senza averne titolo. Nel 2011 la Guardia di Finanza ha scoperto complessivamente più di 6.500 falsi braccianti agricoli che hanno provocato un danno alle casse dell'Inps di oltre 42 milioni di euro. E poi ci sono le numerose persone che si presentano allo sportello dell'Istituto con false deleghe per percepire la pensione del parente deceduto, risultato oltre 800 mila euro di danno all'Inps. Mentre un altro rapporto della Guardia di Finanza, anticipato dal Corriere della Sera, rivela che nel periodo che va dal 2009 al 2011 circa 3.300 statali avrebbero svolto contemporaneamente anche attività esterne. Si tratterebbe di consulenze e incarichi privati senza alcuna autorizzazione. Un fenomeno che, secondo i calcoli delle fiamme gialle, avrebbe causato un danno alle casse dello Stato che sfiora i 55 milioni di euro. Ora sentiamo quali sono le condizioni dei 18 uomini di equipaggio a bordo della nave italiana, sequestrata oggi dai pirati a largo delle acque dell'Oman. Sei di loro sono italiani. I domitili a Savignoni.